Nel 2011 ho presentato nella sede del Comune di Pescara il progetto di fusione di Pescara-Montesilvano-Espoltore, un progetto innovativo che prevede la costruzione di una grande città di 200.000 abitanti. Negli anni successivi ho lavorato in Consiglio regionale per predisporre gli atti propedeutici all'indizione di un referendum, perché il processo di costituzione di un comune unico, attraverso la fusione di comuni preesistenti, richiede in via preventiva un referendum consultivo con i cittadini. Questo referendum è stato disposto dal Consiglio regionale e si è celebrato nel maggio del 2014. In preparazione del referendum io ho presieduto il Comitato Promotore del referendum, ho fatto la campagna elettorale per il referendum, che ha ottenuto un risultato impensabile. A Pescara il 71% dei pescaresi ha detto sì. Il nuovo comune dovrà costituirsi entro il 1 gennaio 2022, prorogabile per una sola volta per i due anni successivi. Questa premessa serve a far capire che essendo il prossimo appuntamento, l'appuntamento che vedrà la nascita di questa grande nuova città, alla quale ho dato un contributo personale negli ultimi 7-8 anni, ho pensato che fosse utile offrire ai cittadini e agli elettori il mio contributo di esperienza e di conoscenza. Mi canto con una sola lista, con questa lista che si chiama Riconquistare l'Italia, che è espressione di un partito nazionale che si chiama Fronte Sovranista Italiano, che nasce nel 2016 dopo un'esperienza associazionistica che è durata circa 5 anni, nel corso dei quali abbiamo cercato di raggruppare un numero congruo di persone per poter fondare un partito, che si ponesse come obiettivo quello di riporre di nuovo in cima all'ordinamento nazionale la Costituzione italiana. È un obiettivo, mi rendo conto, molto ambizioso, perché Fronte Sovranista Italiano, intanto vorrei spiegare perché oggi si parla di sovranismi con un'accezione direi abbastanza diversa da quella che abbiamo inteso noi quando ci siamo formati in forma associativa. Infatti, vi dovete pensare, anche la Lega è un partito sovranista. Assolutamente, non abbiamo nulla a che vedere con la Lega. Noi siamo nati nel 2011. Che cos'è Riconquistare l'Italia? Riconquistare l'Italia è il tentativo di declinare queste tematiche che noi portiamo avanti con il fronte sovranista italiano in chiave territoriale. Si è candidato a sindaco a Pescara per quale motivo sostanzialmente? Perché ho una passione per Pescara, perché Pescara in questi ultimi anni l'ho vista ripiegata su se stessa. È una città che sta soffrendo in tutte le sue componenti. C'è un disagio sociale fortissimo. Il commercio è in crisi, il turismo è in crisi. È una città che è totalmente insicura. Pescara era caratterizzata per essere una città sicura, dove chiunque poteva passeggiare a qualsiasi ora del giorno e della notte senza avere problemi. Invece oggi, in ogni momento della giornata, si corre il rischio di avere brutti incontri. Quindi tutte queste cose oggi impongono una scelta chiara su questa città. E quindi ci muoviamo in questo senso per far sì che ci sia un rilancio della Pescara che abbiamo sempre conosciuto, che è nata correndo e che oggi invece è assolutamente frenata da lacce e laccioli che noi vogliamo liberare. Grazie a tutti.